L'inchiesta su questo rigurgito del terrorismo è partita dopo l'arresto nei giorni scorsi a Roma del neo-brigatista Antonio Fosso. E per finire il ciclismo, presso le gare domani sulle strade della nostra provincia, gli allievi correranno a Mancalacqua di Lugagnano, gli esordienti saranno di scena a Vigazio e i giovanissimi invece saranno impegnati a Povegliano. E con questo... In primo piano la Tecnocop Verona che ieri ha terminato la fase eliminare... Porco Dio! Madonna di Dio, cane! Mi tocca rifare tutto da capo! Ostia, non venite dentro! Non venite dentro, mi hai distratto! Dio buono di Dio! Dio buono! Dai, ricominciamo da capo, dai! Dai, andiamo dalla sigla, dai! Domani a Zurico si svolgeranno gli accoppiamenti... Basta, basta Dio! Dai, va là, dai, va là! Dai, va là! Ripartiamo subito, dai! Ripartiamo subito! Ripartiamo subito! Ripartiamo subito, buona, buona, bravo! Ripartiamo! Tocca a ferro! Sulle terreno delle palasporte di Piazzale Olimpia, nel campionato di A2 di basket a spese della Fantoni Udine. Diciamo che il punteggio di Ocane, no, no, di chi dipende, di Dampi, van, ripartiamo da capo... Aguillera ha ottenuto gli arresti domiciliari. L'uruguayano che deve rispondere dell'accusa di favoreggiamento della prostituzione... Vaffanculo! Consolidando pertanto le sue quotazioni in prospettiva... Porco Dio! Ma che è il monaco che batte la porta e che chiude urlando? Sì, è l'unica russa! Ah, non lo so io! No, non c'è l'unica russa, tiglia! Anche nella nostra città, infatti, ci sono... Dio porco! Perché chi è che ha la porta? Dio cane! Che è che sarà la porta? No, nessuno, Gesù Cristo, no, nessuno! Dio... Dio canna, madonna! In primo piano il calcio per beneficio Dio schifoso can... 83-82 il punteggio in favore dei giganti di Bucci, i quali si sono... si sono rivelati particolarmente imprecisi al tiro e i fumosi nello sviluppare le manovre offensive. In classifica la Graxo ha sempre sei vantaggi... Dio porco! Dio ha sempre sei vantaggi di lunghezza! L'avvocato Marco Bisagno ha precisato che considera l'assemblea di quest'oggi, considera irregolare, quindi la minoranza procederà per le strade di ordine buro... Raffanculo, Dio cane, Dio cane, Dio cane, Dio cane! Madonna puttana! Il magistrato ha già nominato un curatore fallimentare e il commercialista Gianfranco Bertani, ex... ex... vice... Dio porco... Dio cane! Ex vice sindaco! In Coppa delle Cuppe, la Sampdoria... Dio porco! Tutte le volte che parto... Madonna di Dio! Mentre la Juventus è virtualmente qualificata dopo il 4 a 0 ottenuto nell'andata, affronterà a Torino l'Austria-Vienna. Porco Dio! Gli ocane! Gli ocani, partiamo subito! L'Austra! L'affanculo! Ventilata dalla Invest che in un primo momento aveva individuato nell'ex sindaco Gabriele Sbuorina, ex... Dio porca madonna di Dio! Se non bestemmio, guarda! Se non bestemmio, riproviamo perché Dio, 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 Bubu! Avete girato le foto, sì? Passiamo alle tennis, per ricordare che sarà la finale femminile tutta dell'Est, va a fan... oh, Dio, 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 porco! Madonna puttana! Sorpresa ha suscitato la squalifica inflitta per un turno a Celeste Pim per quel che riguarda... E porco Dio, stavo pensando, sentendo, dai, ma vediamo il quadro completo, Brescia-Foggia, Caleri-Roma, Fiorentina-Milan, Genova-Atalanta, Inter, Dio, porco di Dio, Genova-Atalanta, vaffanculo, madonna, perché con tanto tempo anche, Dio.